Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo al Valorant che non si avvia per chi esce così questo errore riguardo al Crash quindi tu avvii Valorant, Crash, può essere anche un fatto di alcuni errori nella sua cartella oppure nella cartella di AppData quindi per risolvere così questo errore andiamo direttamente sul nostro AppData, quindi vai a scrivere Esegui, scrivi qua Esegui e qua sul campo bianco scrivi %AppData% il % devi farlo con shift più 5 sulla tastiera e fai ok, una volta fatto vai su AppData, local, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Valorant se non è in ordine la cartella vai su ordine e metti nome e qui c'è Valorant, ci clicchiamo dentro vai su save e cancella così queste cartelle qua e svuota il cestino quello che posso anche consigliarti è andare sul programma Riot Client, andare sulla rotella e fare ripara Valorant quindi devi riparare il gioco, chiudere il programma e riavviare il sistema poi andiamo direttamente su servizi scendi fino a giù fino a trovare il disco virtuale tipo di avvio se c'è su manuale e qui c'è scritto stato del servizio interrotto fai in esecuzione quindi clicca su avvia, metterlo in esecuzione, tipo di avvio metti automatico chiudi qua e poi avvia Valorant come amministratore per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video ci sono altre guide nella playlist di Valorant su come risolvere molti errori su Valorant anche l'errore 1067 oppure l'errore riguardo al security boot non si avvia Valorant a causa del TPM 2.0 del security boot quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao